Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per traffico intenso ci sono code a tratti tra Valdichiana e Firenze Sud e tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico. Sul raccordo Siena-Firenze fino al 14 settembre scambio di carreggiata per lavori tra Poggi Bonsi e Colle di Valdelsa Sud in direzione Siena con conseguente chiusura dello sviclo di Colle di Valdelsa Nord. Sulla statale 1 Aurelia restringimento di carreggiata per lavori tra Follonica Est e Follonica Nord in direzione Nord. A Firenze per i cantieri della linea 2 della tramvia da oggi lavori di asfaltatura in via di Novoli con restringimenti di carreggiata. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio!